Musica Buongiorno principesse, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti oggi con questo video vorrei inaugurare una nuova rubrica su questo canale rubrica se così possiamo chiamarla, una nuova tipologia di video ossia il top del mese ogni mese cercherò di parlarvi di un prodotto che mi ha colpito così tanto da voler fare un video in cui vi parlo soltanto di quel prodotto una sorta di preferito dei preferiti sì, preferito dei preferiti del mese sì, va bene e oggi voglio parlarvi in particolare di un prodotto di cui mi sono innamorata follemente sin dal primo utilizzo ossia lo shampoo Big di Lush uno shampoo al sale marino ma prima di parlarvi di questo prodotto voglio dirvi un po' come sono arrivata a questo shampoo come vi ho già letto in qualche altro video con l'arrivo della primavera sono arrivate anche tutte le mie allergie che mi causano oltre a raffreddore con conseguente mal di testa occhi gonfi, rossi come questa maglia che lacrimano ogni secondo è arrivata e tornata anche la mia dermatite allergica cutanea che ovviamente mi è stata diagnosticata da un allergologo e da un dermatologo non è che me la sono autodiagnosticata io ci tengo sempre a precisare questa cosa mi raccomando se avete problemi di questo genere ricatevi da un allergologo o da un dermatologo per avere la sicurezza di avere quella patologia e questa dermatite mi causa prurito soprattutto sulle braccia sul collo ma anche sul viso rossori, macchie che faccio fatica a mandar via ma anche problemi al cuoio capelluto prude tantissimo, si desquama lo so che è brutto da dire ma è anche brutto vivere una cosa del genere quindi se posso aiutare qualche ragazza che magari ne soffre ben venga e quindi per cercare di combattere questa cosa che mi affligge sempre periodicamente quest'anno ho deciso di acquistare questo shampoo di Lush lo shampoo Big che mi ha colpito perché è uno shampoo al sale marino sulla confezione infatti c'è scritto che è appunto uno shampoo al sale marino arricchito da alghe e olio di cocco per rendere i capelli morbidi oltre a succo di limoni e lime freschi per lucentezza e volume è infatti uno shampoo volumizzante ma io non l'ho acquistato per questo motivo il volume è immediato, si nota subito ed lo potete accentuare magari asciugando i capelli a testa in giù o con un diffusore comunque il volume si vede veramente ma è uno shampoo che io sto adorando perché mi lascia i capelli veramente puliti mi dà un senso di pulito che io non ho mai provato con nessun altro shampoo ovviamente essendo a base di sale tende un pochino a seccarmi le lunghezze però risolvo tutto applicando una bella manciata di balsamo sempre di Lush io sto utilizzando American Dream appunto sempre di Lush che ha un profumo ragazzi che non vi dico ma di questo ve ne parlerò in un altro video tornando allo shampoo big la cosa che mi piace un sacco è che aprendo la confezione vedete proprio i pezzi di sale grosso all'interno di questo shampoo e poi annusandolo sta proprio di mare ha proprio l'odore del mare mi piace un sacco di solito io preferisco dei profumi più dolci vaniglia, fragola, cocco però questo mi piace tantissimo anche l'odore di questo shampoo che oltre a lasciarmi i capelli belli puliti mi lascia belli luminosi e li sento proprio più forti li sento più sani anche e quindi insomma questo è quello che penso su questo shampoo che dal mio punto di vista è fantastico mi sta aiutando tantissimo anche ad alleviare il prurito ad alleviare questa sensazione di fastidio perenne che è causata dalla dermatite allergica io spero che questo video vi sia piaciuto almeno un pochettino fatemi sapere qualcosa nei commenti qua sotto ci vediamo al prossimo video vi mando un bacione grandissimo ciao ciao